La Nike ID oramai sono 7-8 anni che la sfrutto, diciamo. Prima dovevo fuori Nike ID ero uno dei più grandi clienti, penso, ne acquistavo un paio al mese. Da questa grande opportunità di poter personalizzare le proprie scarpe è una cosa molto carina, penso. I miei colori preferiti, nemmeno dito, sono il nero e l'azzurro, questione di cuore. Questa scarpa e questi colori l'ho scelta in onore del centenario dell'Inter. Infatti ho scelto una per la maglia home e una per la maglia away. Le mie scarpe preferite della Nike sono le Shock R4, le Jordan e le Dunk, che sono talmente tante che riesco anche a, devo dire, queste idee di abbinare a seconda di congresso ogni mattina. Era un sogno che avevo da bambino e sono riuscito a realizzarlo. Grazie a tutti!